Fabio io sono il dio del gioco eh Tu non hai idea di chi sono io Chi cazzo sei? Sono Fabio Mollura E Fabio io Sono Ate, re dell'Olimpo Vabbè ragazzi niente da fare Non si riesce proprio ad avere una conversazione Fammi alzare un altro po' E' una cazzata Get Cazzer Badminton No basket Subito no Tenemosi in un retimo segreto Dai Se tieni premuto questo mentre fai il movimento Fai il bordo Aspetta Oh Oh Ah vabbè Eccolo Dai porco dio E' il fenomeno del badminton Quante volte ci hai giocato a sto gioco Zero Eh lo immaginavo Cioè è quella la cosa Lo immaginavo Oh Eccolo Eccolo Stupida Stupida Tocaccia E va a far culo Porco dio Eccolo Guardatelo E' muscoloso E' muscoloso E' muscoloso E' muscoloso E' muscoloso E' valla a prendere Eccolo qui E' di nuovo muscolosissimo E' muscoloso Hey Hey corta è sono stato messo io ho fatto la vita davanti ho fatto una finta ad esatto a casa avanti il prossimo grazie prossimo video gioco allora palla a volo due giocatori e sei forte ma sega come te lo cavi ma sega è anche probabilmente fortissimo ti alzo o no fai male però poi fa muro eh bella no la prendo la prende lui eccolo puttala muro date ecco eccolo guarda che cazzo di verticale di cosa che ha trovato madonna la veloce la veloce cicci eccola che la mette vai che bella muro è sporca è sporca vai boom no tu non mi anticipo boom bello subito oh ma armata eccolo no c'è questa arma ha preso in tempo mi ha subito oh dio boom dai porco dio la prende boom dai ma ragazzi come stai nata quando punta al mignolo per far deviare la palla mi ha boom ok dico alza eccolo lo compri bene alzata fenomenale eccolo eccolo picca bowling intanto che almeno stavo fermi poi e poi primo movimento è così e poi il movimento per dare l'effetto come mi ma fabbio mi dispiace ma e no poi devi tenere premuto ok un po sfortunato fabbio mollura poi che si fa da chi l'effetto devi girare il polso ok frate frate devi girare mentre che tiri non è che giri e poi ma che cazzo è ha le stelle energetiche junior che fa così che mani ma tu mi hai detto devi farmi come hai detto quando no fabbio sei sei megasus te lo faccio subito vedere hamburgerona che ricordiamo essere campionessa del mondo per sette anni consecutivi lì abbiamo preso il giro devo essere onesto eccolo porco dio però ma dove è andata sta pallina però ti sei quello che o va a 20 all'ora o va a 80 mila all'ora in realtà non è vero lega è che con le cuffie tiro sempre meglio lì mi ritorna ma come no mi ritorna non vale canale di suez guarda che c'è sei un uomo fortunato sei che gol vati stuta eccolo strike niente il fenomeno del volo ahahah uno sai che c'è il gioco è divertentissimo 20 Fabio questa è semplice questa non la sbaglia manco il k ragiona su questo ecco ecco ragazzi è diventato un fenomeno è diventato mi serve uno strike ok ottimo strike 10 punti avanti stavo ma che è? peccato la potevo smurfà eh no questo è chill questo è proprio basico ah non l'ho mai visto bro ma che è? my man sai chi era il mio professore di fisica? openheimer porca troia esplosione la bomba del professore ma che è sta merda ahahah e gli ultimi fabio sono preso free sono normali? si gli ultimi sono normali nooo nooo mi faccio tra l'altro io sì i tiri normali non l'innolito devo fare un tiro un tero moschettiere devo fare adesso il tero moschettiere adesso il tero moschettiere e lo vince ma che c***o e lo vince e lo fa apposta a sbagliare l'ultimo tiro per creare la suspense il climax il tiro vabbè ti rifarai al prossimo il tennis il tennis via boom io sono più che due vero? si porco dio oh oddio lo stavo prendendo sono spigone boom boom attenta a usare quello sotto rete Fabio è rischioso niente ragazzi per me il tennis è insensato va bene va bene va bene non lo capisco porco dio non lo capisco oh oh no ma la prende doppio rimbalzo tutte le prendo boom ah ma perché l'altro non lo prende mai? perché la devi essere bravo col timing su una toaia mi vuole dentro boom mi vuole dentro oh porco dio mi vuole dentro oh bella oddio oh oh ah 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 ma la prende o oh ah 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 view Una troia sei Quando venuto te lo aspetti E' un doppio rimbalzo E' lo scambio Non male ho un ottimo avversario Rendila Fuori mia Eh no Basta un vantaggio Dai cazzo Signori Bet basica sul basket Che vince Mai giocato questo eh Una presa Ma non me ne entra uno Ma non me ne entra uno Ma come fai Fabio Ma non me la prendo Ma non me la prende Che gioco di merda Già lo odio Ma come fai a prendere la palla Fabio E tu quanto stai? Quello Quanto stai là dietro? Quello Mi issimo è morito è durato è cancellato ma a me non mi funzionava niente facevo il tasto dietro e non piava manco 10 a 1 però è un po' da vergognarsi ciao